Come vi chiamate? Giosi, Salvo Quanti anni avete? Quattro anni, dieci e tre Da dove venite? Da Paterno, anche da me Cosa vuoi fare da grande? Un po' scendere la NASA Tu invece? Invece il terzo anno che mi si fa la NASA Che cos'è la protezione civile? Per me è aiutare gli altri Per me è aiutare i civili in casi di bisogno, di emergenza Vi piacerebbe fare i volontari di protezione civile? Sì A casa ne avete parlato? Un po' I vostri genitori ne sapevano qualcosa? Sì, sì Sono loro che vi hanno consigliato di venire No Io l'ho fatto davvero per me sempre E anche perché mia sorella conosceva già il campo Tu invece? Una consiglia con mia mamma Perché non sapeva che si stava verso il campo Quindi finché non mi ha portato la mia mamma Benissimo Ok, grazie ragazzi E ricordatevi che Cosa avete scritto sulla maglietta? Grazie 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 Grazie